Non si fanno prigionieri, tu ne hai fatti tanti di prigionieri perché hai un pubblico vastissimo, è il tuo ultimo lavoro discografico? Credo che era una prigionia amorevole, di prigionieri sinceramente se ne arriva strano. No, è un titolo, innanzitutto non è provocatorio, ma è semplicemente una fotografia di uno stato molto attuale, di come purtroppo ci siamo dovuti adeguare ai tempi, questi tempi che in qualche modo ci tengono in modo virtuale incatenati. In questo album si racconta anche una libertà spirituale, una libertà di amore, qualsiasi sia l'essere d'amare. Quindi probabilmente questo titolo, che non è mio, non è del sottoscritto, ma è di un viaggio fatto dal mio amico Renato Zero che ha condiviso con me tante canzoni questo album e un bel giorno mi ha chiamato informandomi che l'album si doveva chiamare così. Il senso io l'ho capito sin dal primo momento, di fatti le canzoni lo spiegano esattamente. Parliamo dei prossimi tuoi impegni nei tanti, oltre al nuovo lavoro discografico, anche impegni teatrali, concerti. In effetti a momenti sto iniziando ad allestire un tour del Non si fanno prigionieri, tour appunto nella prossima estate e non vedo l'ora. Da poco ho terminato la scrittura e le registrazioni della colonna sonora di uno spettacolo del mio amico grande attore Carlo Bucci Rosso che debutterà a momenti con una nuova commedia che si chiama Il pomo della discordia. Con lui sul palco c'è una cantante straordinaria che è Maria Nazionale, naturalmente un cast d'eccezione. Io sono veramente contento di aver scritto questa colonna sonora, uno spettacolo che ha un fine sociale importantissimo. Non ve lo racconto perché sarebbe preferibile che voi andaste ad onorarlo in teatro. E poi ritorna Italiano di Napoli nella prossima stagione teatrale, nel prossimo autunno, a grande richiesta, ritorna Italiano di Napoli in tutta Italia. Con l'anima dello spettacolo Davide Amarotta, con il grande Lello Radice e con Lorena Cacciatore che rappresenta l'Italia. Insomma faccio quelle che mi piace fare. Lo faccio da sempre, vado avanti con un certo tipo di testardaggine, da sempre, come ho sempre fatto. E quindi anno dopo anno sono riuscito ad entrare nel cuore delle persone in modo veramente familiare. E questo mi aiuta tantissimo per poter sostenere questo viaggio meraviglioso chiamato musica teatro.